Come risolvere così l'errore riguardo all'aggiornamento che non è stato, quindi non ha potuto installare sul tuo computer? Come puoi vedere qui c'è un aggiornamento che si chiama KB5041585 installazione non riuscita del 15 agosto ed ecco l'errore. Quindi in questo caso visto che non è riuscito ad installarlo automaticamente possiamo installarlo noi manualmente. Prima di fare questo in descrizione ti ho lasciato dei comandi da inserire su prompt dei comandi per cancellare gli ultimi aggiornamenti e ripristinare così Windows Update. Quindi in questo caso in parole brevi dobbiamo solamente ripristinare Windows Update e basta. Quindi vai su cmt, prompt dei comandi, esegui come amministratore. Ora il comando da inserire è questo qua che inizia con NETSTOPBIT fino a NETSTART. Questo comando funziona solamente se il prompt dei comandi è aperto come amministratore, quindi devi avviarlo come amministratore. Fai CTRL-V ed eccolo qua. Farà un ripristino, un arresto e poi fa di nuovo un avvio. Quindi aspettiamo. Ok, avvio del servizio identità applicazione è riuscito e fai exit. Vabbè posso direttamente chiuderlo. Se non dovesse funzionare sul cmt puoi farlo direttamente. PowerShell, quindi Windows PowerShell. Una volta fatto andiamo direttamente nella cartella, questo PC, disco locale C, scendi fino a giù fino a trovare Windows, scendi fino a giù fino a trovare. Software Distribution, cancelli così la cartella, download. e svuoti il cestino. Chiudi un attimo qua. Vai su Servizi. Scendi fino a giù fino a trovare Windows Update. Per questo servizio è arrestato, mettilo in esecuzione, quindi fai avvio. Tipo di avvio, metti manuale e fai avvio tu. E fai applica. Ora passiamo alla parte dell'installazione manualmente. Quindi vado sul mio Windows Update. Vado così a prendere il KB 5041.58.5 e chiudo qua. Vado su questo sito qua che ti ho lasciato in descrizione e lo inserisco qui. Carico così la versione 23h2.64. Clicco su Download. Mi raccomando il file deve finire come .msu per essere installato. Adesso aspettiamo il download. Una volta fatto, te lo ritrovi qua sopra sul desktop e avvia. Qua dice che il programma di installazione Windows Update Autonomo, quindi già installato nel computer. Vado su Windows Update. Impostazione di Windows Update. Devo riavviare così il computer. Quindi fai anche una ricerca degli aggiornamenti che devi fare. Prova anche a installarli manualmente. Quindi prova a copiare il comando. Quindi prova a copiare così il nome dell'aggiornamento. E mettilo sul catalogo. Scarichi, installi e riavvia il computer. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. Iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.